A 15 mesi dalla scomparsa solo tante ombre sul caso di Mimì Manzu, una vicenda che è salita anche alla ribalta nazionale visto l'impegno della trasmissione Chirabisso su Re 3 e l'interessamento dell'Associazione Penelope. I carabinieri coordinati dalla procura nel corso dell'indagine hanno ascoltato conoscenti dell'uomo e testimoni per cercare di stabilire la verità su quanto accaduto. Le sorelle e figli della 69enne muratore di Prata, sostenuti dall'avvocato Federico Manzu, a più riprese hanno rilanciato l'appello a collaborare l'intera comunità per cercare di ritrovare il proprio caro. La raccomandazione agli investigatori a non spegnere i riflettori sulla scomparsa. Sino ad ora però si regista solo un frenetico waltzer di voci e sospetti, non ci sono indagati, anche le ipotesi di movente così come le presunte piste non sembrano avere consistenza. E così la verità sulla fine di Mimì resta purtroppo un giallo, un mistero senza fine. Anche l'investigatore privato Sergio D'Amore, su incarico affidato gli dai figli dello scompasso, ha compiuto degli accertamenti in questo periodo, un dossier consegnato dal detective alla procura. Nella relazione ci sarebbero dettagli e retroscena che potrebbero essere utili all'indagine condotta dai carabinieri. La sera dell'8 gennaio del 2021, giorno della scomparsa, Mimì si è allontanato in auto con una persona di cui si fidava, rivela l'investigatore, ucciso e il cadavere portato via lontano. Il cadavere di Mimì Manzo dove potrebbe stare adesso? Certamente non in zona. Forse chi ha voluto fare questa azione delittuosa probabilmente ha programmato altrove e quindi l'hanno portato fuori. Ma probabilmente dopo tutte queste situazioni lui sapeva che c'era qualcuno che lo attendeva a livello amicale e quindi è uscito così perché è impossibile che qualcuno lo avrebbe appostato e poi tra virgolette rapito e farlo fuori e portarlo altrove. Quindi sarebbe uscito di casa per un appuntamento? Per un appuntamento e quindi si è allontanato in quella zona. Una persona di cui si fidava? Sicuramente, sicuramente. Come continuerà adesso la sua attività investigativa per cercare comunque elementi che possano fare chiarezza su questo caso sempre più intricato? Sono sempre in attesa che qualcuno di buona volontà, anche senza farsi riconoscere se vuole, purché che mi dia delle notizie utili atti al rintraccio o a dei fatti, neanche il rintraccio ma dei fatti se sanno qualcosa, insomma, in modo che io posso accertare e riferire anche ai carabinieri, all'autorità giudiziaria, in modo tale che magari forse con un privato si convitano di più, non lo so, però spero che qualcuno si faccia avanti con delle notizie non per sentito dire, ma proprio chi ha visto, chi sa, senza nessun problema.